Coce, ancora tagli per i CAF come nello scorso anno, cittadini penalizzati? È un taglio che va a pesare pesantemente sul servizio che noi organizziamo da anni ormai e naturalmente va a pesare anche sugli organici, sia dei CAF che dei patronati. Per cui noi invitiamo il governo a riflettere e a bloccare questa iniziativa perché si tratta di un'iniziativa penalizzante che certamente non va a penalizzare il sindacato. Va a penalizzare invece il servizio che viene erogato a 360 gradi sui comuni del nostro paese e un servizio fondamentale appunto per le fasce più deboli della popolazione che non possono permettersi il ricorso a privati. A sindacati uniti per invitare il governo a ripensarci? Noi siamo a ribadire che occorre proprio un'inversione di tendenza anche perché se questi tagli venissero confermati ci sarebbe una mancanza di strutture CAF ad esempio sui territori proprio nei territori più interni della nostra regione e della nostra provincia. Quindi a questo punto sarebbero svantaggiati come sempre quelli che non possono accedere a un servizio centrale. Grazie. 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 Grazie.